Volevo parlare di giornalisti del regime, della RAI, in che persone, da quali persone è manipolata l'informazione? Seguimi bene. Ho scritto un'affermazione molto forte, ma alla quale, che è il risultato di una serie di informazioni che portano a questa cosa qui. Ovviamente non c'è un determinismo, ma tutto porta a questa cosa qui. E io non vorrei che portasse a ciò, perché nessuno vorrebbe che accadesse quello che potrebbe accadere, ma essere consci di una cosa è il primo modo per evitarla, non nascondersi. Allora, una persona che fa giornalista alla RAI, che legge le notizie, che era fra gli amici di Facebook, e gli ho detto questa cosa qui. Bene, sapete qual è il risultato? E io ve lo faccio vedere. Mi ha dato del malato di mente, mi devo far curare. Allora, queste persone che sono pagate anche da noi che paghiamo il canone, è da me, mentre io da loro non ricevo niente, dalla RAI, si permettono di insultare gratuitamente persone, in un modo oltretutto abbastanza puerile per una persona che si suppone che abbia fatto un concorso, ossia la RAI, ti devi far curare. Siccome ho mandato altri link in cui vi erano cose che esistono su YouTube, cose sulla RAI e quant'altro negative, e sappiamo come è manipolata, a parte qualche trasmissione tarda, notturna, ma insomma, l'informazione della RAI è assolutamente di parte schierata europea di regime. Sfido qualunque stessi persona a dimostrare che non lo è, e ripeto, alcune trasmissioni, tipo la gabbia, diciamo, per dimostrare a che ora vengono date e quante persone le vedono, ma i telegiornali e tutto il resto è assolutamente di parte, come mass media, e come il resto serve per distrarre la popolazione, la gente, di quello che succede, pochissimo prende veramente il polso di quello che sta succedendo, e si sa cosa la gente pensa di Napoletano, di Renzi, io so perché parlo con la gente, lasciate perdere quello che votano, parliamo tutta la popolazione, perché tanta gente non è andata a votare, facciamo la percentuale, su dieci persone vedremo cosa pensano, e molti di quelli che hanno votato quelle cose l'anno hanno votato tanto per votare, ma dall'altra parte c'è gente molto più motivata e molto più incazzata di quanti gli altri siano soddisfatti e disposti a combattere per lo status quo. Comunque, ripeto, io ho visto quello che dice Giulietto Chiesa e sono molto d'accordo su quello che dice, lo chiamano catastrofista, ricordiamoci che ci sono stati due guerre mondiali, che sono state buttate due bombe atomiche, che recentemente vi sono guerre cosiddette locali, tante situazioni di guerra, da quello che succede all'Isis, da due enti di guerra che ci sono stati, e fortunatamente ancora non è scoppiata, ma era nei loro piani contro l'Iran, tutto sta portando per una serie di cose, diminuzione delle risorse naturali, incremento della popolazione, è nell'ordine delle cose, è proprio matematico, che a un certo punto, se ci sono dieci topi e un pezzetto di formaggio, questi dieci topi si batteranno tra di loro per quel pezzetto di formaggio, a meno che non si cambi la situazione, ma ci vuole un completo modo, cambiamento economico, finanziario, socio-politico al 360 gradi, per gestire in modo più giusto e ecocompatibile le risorse che ci stanno rispetto alle popolazioni che c'è, altrimenti in questo modo, diciamo, neoliberista, che da una parte l'Occidente sta facendo, anzi l'Occidente, e a cui forse si oppone solo la Russia, ma la Russia non solo si oppone, ma viene spinta a questa occupazione, viene, diciamo, in tutti i modi pungolata attraverso politiche, che spingono la Nato e l'Occidente sotto le porte della Russia in modo anche aggressivo, e vedete, lì parliamo di gente di lingua e di origine russa in Ucraina, e quindi stiamo parlando della Russia che non sta lì a fare i propri interessi, ma a livello economico, ma parliamo proprio di popolazioni russe. russofone, lì si gioca la battaglia finale in Ucraina, lì l'America vuol vedere fino a che punto la Russia lascia perdere, o è disposta a imporre un limite, oltre questo sono cazzi amari, e i cazzi amari volano intercontinentali e arriveranno anche qui dove ci sono basi americane. non si salva nessuno, non si salva nessuno, perché una volta che è contaminato, cazzi, vi ricordate quello che è successo in Ucraina? Quindi, giornalisti RAI, come si permettono? io ho detto che era servo, ma è ovvio che servo del regime, ma gliel'ho detto dopo, a metà del pazzo, ora che io sono pazzo, è tutto opinabile, ricordatevi cosa faceva l'Uni Sovietica, appunto quelli che la pensavano diversamente, erano pazzi. va bene, quando le cose cambieranno, io dirò nome e cognome di questa persona, io penso che tutte queste persone dovranno espatriare, come minimo, se non essere resi, tutte quelle persone, vi ricordate quando è finita la seconda guerra mondiale, pure le persone, direttori d'orchestra, che avevano continuato a svolgere la loro attività, anche suonando di fronte ai nazisti, a Hitler, sono stati tutti coinvolti in questa epurazione, io penso che qualsiasi persona abbia espresso la propria opinione contro questo regime, adesso, è una delle proprie persone che ha la coscienza del posto, rispetto a tutte le altre che hanno collaborato, o è taciuto, rispetto a quello che sta succedendo, soltanto perché gli faceva comodo, e non volevano perdere il loro posto di lavoro. Io sono pazzo, allora siamo pazzi, tutti quelli che vedono anche la visione sovietica, sovietica, se c'è la sovietica sta qui, russa, e parlano del fatto che la Russia non attaccherà per primo, se una persona dice che non attaccherà per primo, che lo dice a fare? o lo dice non ci attaccate che poi rispondiamo e fanno capire che c'è la possibilità di una guerra, quindi fanno capire che dell'altra parte ci potrebbe essere, non si parla di io non attaccherò, se non mi attacchi prima, se non c'è la concreta possibilità che questo succeda, e parlano del fatto che la Russia potrebbe attaccare attaccare per primo quando è in gioco l'esistenza dello Stato russo, come si distrugge uno Stato anche a livello economico, quello che stanno uscendo con la Russia, quindi per assurdo più loro avranno successo nella loro politica di voler far piegare la Russia, e questo si basa sul fatto che loro pensano che l'altra parte le ragioni sono in termini economici e non in termini di umani di dignità di quant'altro, non hanno capito che a quel punto la Russia non scomparirà, non diventerà uno Stato satellite, ha una guerra economica che sta vincendo, che non può vincere economicamente, arriverà una guerra vera e propria, quindi non ci sono stronzetti, stronzetti, fighetti della RAI che si credono sto cazzo a poter pigliare per il culo, gente che ne ha capita, che io penso sinceramente di queste cose, le avranno capite molto di più di queste che stanno alla RAI, che leggono le notizie, lasciamo perdere, con che faccia, con che faccia, possono leggere nel Fondo Monetario Internazionale dell'Europa, ancora questa cosa dell'Europa, con che faccia, mi ricordo ai giornalisti che stavano alla televisione polacca, vabbè, questo è quanto, ciao.